Sì, siamo pronti. Già il 7 settembre dovremo iniziare con tutte le attività, a partire dal settore giovanile con i bambini S3 dai quattro anni in poi, fino appunto ai più grandi, alle ragazze della prima divisione, ai maschietti dell'Under 18-18. Per quanto riguarda quest'anno sarà un anno un po' particolare, visto un po' la situazione emergenziale della pandemia. Però abbiamo già iniziato l'attività con i centri estivi durante il periodo estivo, quindi abbiamo già messo la struttura in sicurezza. Fortunatamente abbiamo una struttura in gestione, stiamo collaborando infatti con il comune di Serino, che ci ha aiutato con la sanificazione e con il materiale sanitario. Quindi la palestra è tutta a norma, gli struttori già hanno fatto esperienza grazie ai centri estivi e quindi siamo voluti per partire. Coach Chiara Luciano, invece, cosa ti aspetti dal post-Covid? Abbiamo già messo in atto i protocolli di sicurezza, quindi veniamo già da tre mesi di prove. Quindi i ragazzi hanno svolto perfettamente il loro compito, quindi messa in sicurezza, rispetto delle regole da parte dei bambini, che comunque è una cosa abbastanza complicata da far capire, soprattutto ai più piccoli. Però devo dire la verità, siamo perfettamente in grado di gestire questa emergenza, anche perché dopo tre mesi siamo perfettamente in grado di gestire questa eventuale evenienza di un continuo di pandemia. Per una realtà piccola come la vostra cosa vuol dire chiudere tre mesi? Sì, è stato un po' dura, però fortunatamente ci sono stati degli aiuti anche da parte dello Stato, quindi il Comune ci ha aiutato per la ripresa dell'attività. Il problema ora è creare un po' di sicurezza, soprattutto nelle famiglie. Noi abbiamo già iniziato da tre mesi, quindi siamo già pronti per ripartire. Noi abbiamo già iniziato da tre mesi, quindi siamo già iniziato da tre mesi.